E cominciamo subito dalla riete. Oggi le cose vi andranno decisamente bene e ne sarete perfettamente consapevoli. Seguirete i consigli di chi vi è affezionato e proverete ad adottare la tecnica del sorriso con chi vi dà problemi. Toro, avrete molte cose a cui pensare e vi capiterà di escludervi da quanto avete intorno senza che ve ne rendiate conto. Fate attenzione a questa tendenza che non vi capiti mentre state guidando da soli in auto o mentre siete in coda alla cassa. Gemelli, vi sentirete bene e avrete voglia di ridere e divertirvi lasciando da parte, almeno per oggi, ansie e pensieri poco produttivi. Cercate quindi di evitare gli amici troppo seri e noiosi. Cancro, non avrete un umore molto allegro. Alla mattina metterete il muso e sarà impossibile togliervelo per tutto il giorno. Fate attenzione perché chi vi circonda potrebbe stufarsi dei vostri capricci. Leone, oggi vi sentirete particolarmente avventurosi e non vi tirerete indietro davanti le proposte più impensabili dei vostri amici, anzi sarete voi a spronarli. Se potete non restate incastrati dalla solita routine. Vergine, potrete ricevere un regalo inatteso oppure riuscire a spendere meno del previsto durante l'abituale seduta di shopping. Per oggi vi consigliamo di seguire le iniziative degli altri. Non prendete decisioni. Bilancia, sarete più flessibili del solito, più disponibili a modificare i vostri programmi, ad ascoltare chi avete vicino, a dare una mano ad amici o parenti in difficoltà. Scorpione, tutto andrà come deve andare. Le solite commissioni si svolgeranno nei tempi previsti. La passeggiate in centro con gli amici più divertente del solito. Tanta tranquillità vi darà sicurezza. Sagittario, vi sentirete sulle nuvole per tutto il giorno, per la felicità ovviamente. Tutto quello a cui metterete mano andrà esattamente secondo i vostri desideri e la giornata passerà più in fretta di quanto vorreste. Capricorno, non improvvisate, attenetevi alla solita routine che, per quanto noiosa, almeno è ben conosciuta. Ogni deviazione dalla normalità vi agiterà in modo esagerato e renderete nervosi tutti quelli che vi stanno intorno. Acquario, sarete attivi e frizzanti e non vi fermerete altro che per dormire o mangiare una cosa veloce. Qualsiasi cosa abbiate in programma la farete rapidamente. La serata sarà molto allegra. Pesci, oggi non perderete il vostro smagliante sorriso. Vi sentirete calmi e sereni, anche se dovrete occuparvi di cose pratiche che vi distrarranno dalle vostre fantasticherie per un tempo che vi parrà infinito. Dopo tutto questo avrete in compagnia una serata più movimentata di altre.